Il ragazzo guardava di fronte a sé, seduto sull'isola di San Giorgio a Venezia, la nuova costa romantica, pensando per un giorno di far parte di quell'epipaggio, ma oggi quel ragazzo è il comandante. I sogni a volte si avverano, spero che questa crociera sia un sogno anche per voi e si realizzi pienamente. Grazie. E mesdames e messieurs, buonsoir, a nome di Costa Cruzière, tu ne manco in pace, je le preside Boucher, che è un vol costa romantica. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.